Le zucche stanno arrivando, quindi oggi prepariamo una schiacciatina alla zucca croccante e buonissima. Per prima cosa in una ciotola mettiamo tutti gli ingredienti liquidi, quindi l'uovo, l'olio e l'acqua, e mescoliamo bene. A questo punto aggiungiamo anche il formaggio grattugiato, il pepe a piacere e la zucca grattugiata. Io ho usato la butternut, però se volete va benissimo anche la mantovana o la zucca che più vi piace. Aggiungiamo anche la farina e mescoliamo bene. Dobbiamo ottenere un impasto abbastanza liquido e saliamo a piacere. Prendiamo una teglia, oliamola bene e versiamoci all'interno il nostro impasto. Livelliamo bene la superficie così da spargerlo bene su tutta la teglia e cuociamolo in forno ventilato a 180 gradi per 30-35 minuti, fino a quando non sarà ben dorata. Tagliamola a quadrotti e sarà pronta per essere portata in tavola, è buonissima! Grazie a tutti!